Il nostro regalo di Natale al mare è il titolo dato all'iniziativa che si svolgerà il 3 gennaio dalle 9 alle 12 presso la spiaggia della Tonnara di Sciacca. L'evento è organizzato dalla Delegazione Siciliana di Marevivo e dal Museo Diffuso dei Cinque Sensi nell'ambito della programmazione degli eventi natalizi e consisterà in un'azione di pulizia della spiaggia quale simbolico regalo all'ambiente e al mare per sensibilizzare sull'importanza di prendersi cura ogni giorno del nostro pianeta. Con questa attività si dà avvio inoltre all'iniziativa a favore dell'ambiente del nuovo anno e a quelle previste dal progetto Ambiente Giovani finanziato dalla Regione Siciliana nell'ambito degli accordi stipulati con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale per l'utilizzo delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili. Un progetto che sarà portato avanti per tutto il 2024 da Marevivo Sicilia e vede come partner il Museo Diffuso dei Cinque Sensi coinvolgendo centinaia di giovani della provincia dell'età compresa tra 14 e 35 anni in attività legata all'ambiente e alla socializzazione. E' stata scelta la spiaggia della Tonnara poiché insieme alla spiaggia dello Stazione rientra tra quelle della Campagna Nazionale adotta una spiaggia della Fondazione Marevivo ma anche perché necessita di un intervento di pulizia da tutto ciò che nei mesi invernali il mare sta restituendo. Marevivo Sicilia e il Museo Diffuso dei Cinque Sensi invitano a partecipare alla pulizia della spiaggia a Sacenze il 3 gennaio prossimo.